Una vittoria dal valore altamente simbolico ma non priva di importanza strategica. Le forze siriane, alleate le milizie ischiti iraniane, agli hezbollai libanesi con il cruciale appoggio dell'aviazione russa riconquistano Palmira, simbolo della devastazione messa a punto dai militanti del gruppo Stato Islamico. Assieme all'incalcolabile prezzo pagato in termini di vite umane, la presenza degli jihadisti a Palmira ha portato alla distruzione di ampie porzioni del patrimonio archeologico-culturale della città siriana. L'avanzata dell'esercito siriano è stata facilitata da oltre 150 rai dai rei russi nella regione di Palmira in appena tre giorni. Stiamo ancora neutralizzando i terroristi all'entrata di Palmira, dice un generale dell'esercito di Damasco, soprattutto nei quartieri occidentali della città e in questo momento si stanno ritirando. Ci sono diversi convogli che vucano nella città, dice. L'ISIS si è ritirato dai quartieri di Mutakaidin, Jammia e dall'ospedale nazionale nella parte occidentale della città, famosa per il sito archeologico d'epoca greco-romana e patrimonio UNESCO dell'umanità. Tutti quegli specialisti che amano la città di Palmira, dice Mahmoud Abdurkarim, responsabile del settore archeologico della Siria, sono caldamente invitati a contribuire, ad unirsi a noi nello sforzo di ricostruzione di Palmira. Tuttavia siamo coscienti che in sostanza dipenderà dal nostro sforzo a livello nazionale, spiega. La ritirata dell'ISIS da aree importanti di Palmira potrebbe essere il preludio per l'avanzata dell'esercito siriano ed alleati verso Deir el-Zor, nell'est del paese, e da lì verso Rakhah, capitale dell'autoproclamato Stato Islamico.